Le farfalle dentro a questi cosetti da vetro Le farfalle sta raccontando Le farfalle, è il mio preferito Perché per voi il lavoro è un breve fastidio tra un aneddoto e l'altro No, 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 stanno veramente finendo di preparare Come è il nome del regista, quello delle farfalle? Le farfalle è un'altra volta Dai, quello famoso, quello che ha la barba Dì la verità, non c'è voglia di fare un cazzo Lo sai che in America il primo aneddoto sul lavoro è che sei fuori Ma fuori, fuori sul libro nero senza sussidi, fuori Lo sai che in Germania non esistono gli aneddoti I tedeschi non li raccontano, li vivono e basta Ma lo sai perché ti dico questo? Perché quando sono arrivato ogni volta ho sentito che raccontavi quest'aneddoto sulle farfalle Poi ho sentito che lo li raccontavi una seconda volta dal camerino Poi una terza, poi una quarta Quindi adesso oltre al primo aneddoto Esiste un aneddoto su di te che racconti l'aneddoto Lo stai moltiplicando Ok, anticipiamo pausa, grazie Allora, scenografia resta a preparare e tutti gli altri in pausa Lo sai quanto costano a questo paese gli aneddoti inutili? Due punti di pilla E questo è ancora il mio paese, sai? Io amo questo paese Questo è il paese dove vorrei cremare mio padre Se lo trovo Vabbè ma sabre è andato tu È pausa Arianna, io alle tre lascio questo set Si Grazie a tutti